Tre bambini e tre adulti feriti, di cui uno grave. È il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 8 a Chiesino Uzzanese, in via di campo, e che ha visto coinvolto uno scuolabus ed una macchina. Il mezzo era pieno di bambini, 17 alunni, con loro sul pulmino. C'era un accompagnatore d'autista, nell'auto si trovava invece un bambino con la madre. Era donna la persona che ha riportato le lesioni più importanti, soccorsa dai volontari della pubblica assistenza di Chiesina e della Misericordia di Uzzano. È stata portata all'ospedale per delle sospette fratture, mentre le condizioni del figlio, di 5 anni e mezzo, anche lui portato al San Cosmo e Damiano, non destano particolari preoccupazioni. La maggior parte dei bambini sta bene, due di loro sono comunque stati portati in ospedale per accertamenti, così come l'autista e l'accompagnatore. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di valutazione da parte degli agenti della Polizia Municipale di Chiesino Uzzanese, ma dalle prime informazioni si è appreso che i due mezzi si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano via di campo, strada che collega Chiesina ad Uzzano. Il bulmino si stava dirigendo alla scuola elementare di Chiesina nel quotidiano giro per la raccolta dei bambini, quando ad un tratto si è scontrato con la vettura. Sul posto, in soccorso, al fianco dei volontari e dei medici del 118, sono giunti anche i vigili del fuoco di pesce, i carabinieri di Ponte Bugianese e la Polizia Municipale di Chiesino Uzzanese.